Benvenuti a tutti ragazzi, benvenuti sulla seconda registrazione di Minecraft perché la prima è venuta male, vero via di quello stupido di mia sorella che si metteva sempre a parlare Allora, in questo episodio ci dedichineremo al Minecraftita Esatto, una sopravvivenza come tipo il mondo dei naufraghi ma solamente diciamo più breve, niente naufraghi Allora, abbiamo la nostra mappa e ci siamo glicciati Non è male, siamo nella terraferma non più in una stupida isola 3x3 Allora In realtà questo era un video diciamo corto solamente per avvertirvi di questa cosa quindi prendiamo tutto la cassa e l'episodio finisce qui Lo so, è un episodio che voi direste tipo Dexula, allora che cazzo l'hai fatto a fare in questo episodio? è solamente per avvertirvi che la serie multiplayer è stata annullata quindi per questo episodio, per questa breve cosa ci salutiamo qui e ciao Ciao!